Il Comune migliora l'efficienza dell'illuminazione pubblica. Le lampade tradizionali saranno presto sostituite da dispositivi a LED che consentiranno un risparmio del 50% dei consumi e un taglio in bolletta di circa 8 milioni di euro all'anno. La nuova illuminazione, concepita nell'ambito del Piano per le Energie Sostenibili, porterà benefici anche all'ambiente, con una riduzione delle emissioni di anidride carbonica stimata intorno alle 12.000 tonnellate annue. L'appalto sarà giudicato per la durata di 12 anni e comprenderà l'automazione dei sistemi di controllo della ventilazione per le gallerie stradali e la manutenzione degli orologi storici.